Grazie a tutti Grazie a tutti Sicuramente la granita al limone penso che sia stata quella che è stata realizzata per prima Poi noi abbiamo il nostro maestro qua a pasticcere che ci può iniziare Provenienza? Si dice che c'entrano gli arebi in tutto questo? Sicuramente sarà venuto da lì Infatti c'è una manifestazione diciamo gemella la nostra Anzi riconoscere sono nati prima a Cefalù C'è lo Shebert Festival che è il festival del gelato internazionale E Shebert è una parola araba che significa appunto È tipo la nivarata detto in arabo Maestro granitaro e maestro pasticcere avvicinati Prego prego Una chicca al volo La produzione della mandorla La farò vedere la produzione della mandorla La farò vedere tutto naturale senza conservanti E poi una chicca generica sulla granita In assoluto È una tradizione 10 reale Quindi va rispettata e non si deve perdere mai E mi pare che non vanno le persone Esatto Che l'apprezzano Allora ci vediamo dopo per il laboratorio Ok a dopo E' un po' caldo eh Questa è la temperatura dei laboratori purtroppo No vabbè Questa è la temperatura di oggi Anche in me Un attimo E questa si è rotta No no Ce la faremo Ce la faremo Ecco Sì Ora poi ve lo dirò Cosa dove ci mettiamo E queste sono Vengono fatte così Delle palline come base Cosa dove ci mettiamo E il cappello di sopra Quella che mangiate di solito La prima di tutto Che la strappate Esatto Perché la fate più fatta Sì sì Allora si dà una piccola schiacciatina E poi si fa questo lavoro Si allarga per bene il centro E si mette questo Così viene fatta la brioche Poi gonfia L'uovo di sopra E esce quella lì L'uovo fa L'uovo è prima di infornare Diciamo Esatto Poi queste qua Vengono messe a lievitare Per circa 40 minuti Sì sì Anche questa Già deve lievitare La prima volta Esatto Esatto Che se no Vengono Piccoline Perfetto Passiamo alla granita Che questo Peno male È un processo lungo L'imbasto viene fatto Con il burro Zucchero No lo sfrutto No è troppo scadendo Burro Zucchero Sale Mievito di birra Uova E farina Zero e zero zero Perché la farina zero È quella che gli dà L'elasticità Cotta Diciamo La brioche Viene così Allora Queste sono Quelli non fanno male Queste sono Mandorle Zucchero E basta Lavate E bollite E sgocciolate I ingredienti Diciamo In realtà Sono semplici Però la lavorazione Poi cambia Esatto Ora poi vedrete Come la lavorazione Fa la differenza E fa vedere La cremosità Della granita Questa è una macchina Contra i rulli Per macinare Raffinare Le mandorle Solo per Sessi Non ci vogliono 14.000 euro Per una macchina Di questa Solo per macinare Solo per macinare Le mandorle Per una macchina Per una macchina Per un'alto Per un'alto Per un'alto Per un'alto Sì, sì. Anche per fare la pasta reale. Scusate. Vedete queste cose male? Sono delle piccole diciamo pelle che ha la mandorla. Che garantiscono però l'artigianalità. Esatto. Dove le prendi le mandorle? Le mandorle vengono prese generalmente da Avola che sono le migliori diciamo. Perché? Perché sono pizzute proprio, hanno la storia della Sicilia. Siciliano come si tratta? La pizzuta di Avola. No, no, perché c'è l'acqua che fa un po' di... infatti la dobbiamo bagnare un pochettino sennò esce polvere. Scusate. No, guarda. L'avevo prese e ha detto dove compreste. Scusate. Allora, prendiamo un po' perché sennò esce polvere, come dice la signora. Come viene fatto questo lavoro? Ci vogliono altre due... due passate. Nella macchina? Nella macchina. In tutto ci danno tre passate. contro i rulli è tipo che la pasta nove volte. Ora si va a stridere, man mano. e poi si va a stridere. E' già iniziato a prendere la forma della pasta vattata. E' qua che vi fa anche la pasta di vattata. Poi ci lavorano con gli albume. Ah, la pasta di mandorle. Le pasta di mandorle. Le pasta di mandorle. Questo è il panetto. Ora lo faremo il panetto. Cioè il panetto? Quello che intanto è di mandorle. E' proprio mandorle a mano. Non è nemmeno buono. Non è nemmeno buono. Si, si. Va malissimo, attenzione. A che percentuali stai lavorando? La percentuale è segreta. Scusa, un po' di scena. Un po' di scena. Però è... all'ottanta per cento mandorle. Allora... Dai, lo svegliamo. All'ottanta per cento è mandorle. Scusa, ma sono solo mandorle poche. Invece ne prendo solo mandorle o male. Soltanto. Soltanto. I conservanti che mettono. Infatti un panetto lo compie un euro. No, però mi sento il sapore. Mi sento il sapore. Ora dopo ve lo farò assaggiare. Allora gli diamo l'ultima. No, è la stessa piatta. Solo che le prendono da un'altra parte. Non le prendono di un'acqua di corno. Sì. No, no, no. Assolutamente. E' uscito un po' di... da acquistare. No. 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 Vabbè. Un kilo a un 6 kilo diciamo. e questa è diciamo l'ultima passata finale e il panetto di mangiù se volete vi sono contato un po' di storia della grenita da dove parte allora la prima volta che in Sicilia si parla di grenita siamo molto contatti ma ora che la faccio assaggiare no stiamo aspettando era una sorta di sorbetto consisteva in ghiaccio grattugiato mischiato a alcuni sciroppi addirittura usavano anche lo sciroppo alle rose non so che tipo di bevanda potesse venire fuori in realtà però evidentemente agli arati piaceva dopo questo primo input che è stato dato dagli arabi è arrivato il meschiere che già era abbastanza conosciuto in Sicilia ma poi comunque si è andato evolvendo grazie a questa ricetta sono arrivati i Nivaroli che erano i Nivaroli? erano dei personaggi che salivano praticamente sull'Etna durante l'inverno raccoglievano la neve e poi la mettevano all'interno di alcune grotte artificiali o naturali artificiali fatte con dei mattoncini naturali scavate chiaramente dalla lava dell'Etna poi li coprivano questa neve di paglia questa si conservava durante l'estate poi con delle seghe la tagliavano la mettevano sui muli e scendevano qui a Le Cireale Le Cireale le alimentavano a delle persone nobili perché chiaramente con l'epoca non esistevano i frigorifero se ne vuole di più e poi fai il bis non è pochissima e questa fa cascare i tendi fai una pochissima è molto molto dolce assaggiate non hai cucchiaini non volete anche con le mani fa tempo assaggiare la fai una piccolissima superman anche io spero andare certo tengo io? si è ancora calda e quindi si portavano questo ghiaccio ora all'inizio i nobili facevano la rattata che è rimasta comunque a Roma per esempio con la grattacacchia sarebbe sempre questo ghiaccio grattato con vari cittadini lo vendono in tutti i chioffi però l'evoluzione è arrivata quando hanno capito che mischiando il sale con la neve potevano ottenere un refrigerante migliore e quindi la neve non era più un ingrediente anzi serviva a far raffreddare l'acqua quindi al posto della neve utilizzano l'acqua e gli sciroppi che comunque come vediamo è molto simile a quello che facciamo tutt'oggi perché scioglieva chiaramente nell'acqua questo composto dottraeva il calore e faceva ghiacciare loro giravano continuamente una maniglia che si trova all'interno di un contenitore di 5 velocemente e si costituiva così la granita e chiaramente sappiamo che la nostra granita siciliana ha diverse varianti perché soprattutto per la granulosità all'Occidente nell'Occidente la Sicilia è molto diversa qui invece l'abbiamo molto cremosa e dipende appunto le percentuali anche del materiale che utilizzano noi utilizziamo moltissima mandorla per fare una mandorla magari loro di meno più ghiaccio quindi viene molto meno cremosa se mi lasciate qua un po' di spazio e vi mettetelo da questa parte io la muovo più in fretta questo diciamo è un frullatore una volta si scioglieva con le mani gli antichi ci mettevano le mani e la scioglieva ora è qui i geni può farlo con il frullatore perché hanno lo sfumato e apriamo un po' il tavolo la mania è sempre buona la mania è un po' di spazio ci muovono molti soldi da investire beh però noi ho accesi e recuperare i soldi ma in generale per la mandorla la donna è alta la bandiera tra le leite e qui sono adesso a passaggio ha messo l'acqua e quello che abbiamo immaginato e questo cosa dobbiamo acquistare? con circa 7 minuti è vero? e te è pronta? non si vede niente? no no non si vede niente sono dentro dei pali che girano ad alta velocità non si vede niente e poi apri la cosa e c'è tutto quanto e uno si mette con la bocca direttamente la donna massima e questo fa sia il gelato che la granita il gelato cambia la gradazione arriva a 8 gradi deve far lavorare di più invece la granita ha bisogno di 4 gradi e quel 3 che è? il 3 indica la temperatura che c'è all'interno attualmente è a più e uno è quello che deve arrivare? no, uno diciamo è il puntato che arriva a 4 e il programma e il programma della macchina, esatto e il gelato? di meno 8 gradi, certo e ci sono più cose dentro quindi si abbassa la temperatura e il griscopio se no si affloscia il gelato diciamo è più grasso rispetto a... un'altra parte l'abbassamento realista luisà? si, che grasso bicchierini bicchierine ve le porti? e anche dei medici di mandorla di granita si può fare il pistacchio la mandorla brutolita quella frutta che resta da l'era una specie di... si è sempre cremosa, però non c'è è zucchero, frutta e acqua come la connessa cremosa è sempre così si frulla la frutta con quello lì si mette l'acqua e lo zucchero e si mette qua e lei che è proprio l'addenza la macchina fa tutto l'è grazie Luiz le cose artigianali sono le migliori solo questo vi dico quindi andiamo a valorizzare gli artigiani quindi facciamo il gelato artigianale e quindi se compriamo il gelato artigianale non dobbiamo comprare il gelato al supermercato stupore dai facciamolo e andiamo a noi ora i cucchiaini prendeteveli voi stessi io vi faccio i picchiettini esatto così mi aiutate grazie